Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Acque pericolose nuotano nella mano. Andersel si è divertito con Haakansa a banchi in un locale a Emirgan. Hanno continuato la festa al palazzo. Andersel, che ha negato di aver fatto pace con Kieran Bursin e ha detto non c'è nessuno nella mia vita. Si è divertito con Haakansa a banchi in un locale a Emirgan venerdì sera, 11 novembre. Il duo a sorpresa ha continuato la festa con i loro amici nella villa di Sabank a Emirgan. È stato affermato che Andersel aveva fatto pace con la sua ex ragazza Kieran Bursin per un po'. In effetti, le immagini della coppia sono apparse a Kavec nelle scorse settimane. Andersel, che ha rilasciato una dichiarazione in merito, ha risposto alle richieste di riconciliazione. Non c'è nessuno nella mia vita. Te lo dirò, ha detto. Quindi questa è la notte della dichiarazione. Venerdì 11 novembre, la lista d'amore di Andersel è piena di innumerevoli bellezze. Visto con l'uomo d'affari socialite Haakansabank. Alla festa si sono uniti anche gli amici del duo, che si sono divertiti in un luogo di Emirgan. Andersel ha lasciato per primo l'intrattenimento e Haakansabank è uscito subito dopo. La festa è continuata nell'appartamento del palazzo di Sabank con vista sul Bosforo a Emirgan. Andersel è stato l'ospite principale di questa festa, alla quale hanno partecipato anche gli amici della coppia. La coppia può dire di essere solo amici dopo questa notizia. Ma non tutti gli amori iniziano così? La verità verrà presto a galla, aspettiamo e vediamo. La lista degli amori del 31N Murasabank è piuttosto ampia, quindi possiamo dire che Ande nuota anche in acque pericolose. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci. Grazie a tutti.